Ieri giravano le immagini del dopo festeggiamenti al seguito della vittoria dello Scudetto da parte del Milan. Tra i momenti di gioia sui video sono passati i fotogrammi che hanno mostrato azioni che con il tifo nulla hanno a che fare. Ci sono sempre i soliti che si aggregano dove c'è confusione per poter fare le azioni meno costruttive, lasciando poi che venga incolpata tutta una comunità, in questo caso quella dei tifosi milanisti. Tra tante brave persone che pensavano solo inneggiare la propria squadra del cuore, c'è stato chi ha ritenuto opportuno sfogare la propria frustrazione abbattendo cartelli, facendo cadere la colpa su un gruppo di cui sicuramente non fa parte. Si tratta di vandali vigliacchi che si nascondono tra la folla. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spostare i cartelli. Chi avesse video, foto o segnalazioni comunque utili a individuare i responsabili, è pregato di contattare la Polizia Locale alla mail polizialocale-chioggia.org. Grazie per la visione!